E' l'estrazione dei vincitori del concorso per cittadini virtuosi nel campo della raccolta differenziata. Il progetto si chiama Isole Ecologiche per Napoli e per il Napoli, promosso da Asia e dagli assessorati alla scuola e dall'ambiente del comune di Napoli con il patrocino della società sportiva Calcio Napoli per contribuire alla lotta contro gli scarichi abusivi in città e valorizzare un servizio gratuito messo a disposizione grazie proprio alle isole ecologiche, ovvero i centri comunali di raccolta che sono aperti per l'intera settimana. L'iniziativa era rivolta a tutti gli studenti delle scuole del comune di Napoli che entrando in un'isola ecologica ed accompagnati da un familiare, nel depositare i materiali differenziati si sono candidati per il sorteggio di 40 biglietti offerti dalla società sportiva Calcio Napoli per l'incontro con il Verona del 18 maggio. Noi oggi restituiamo in un certo qual modo il frutto dell'impegno dei cittadini con questa estrazione dei biglietti per la partita del Calcio Napoli e per noi questa è una cosa molto bella perché richiama anche uno spirito sano, bello di quello che vuole essere l'aspetto più bello della nostra città che ci dà una mano nella raccolta differenziata. Un lento miglioramento, noi facciamo piccoli passi ma non arretriamo di un centimetro nonostante le difficoltà economiche. Ricordo a tutti che quando siamo arrivati la situazione era ben più complicata, non solo abbiamo risanato i conti di Asia, abbiamo invertito la tendenza, abbiamo aperto tre isole ecologiche, abbiamo finalmente dotato tutta la città di attrezzature per la raccolta differenziata secco umido da un lato e porta a porta dove lo stiamo estendendo fino ad arrivare ad un 30% che per noi ovviamente non è soddisfacente ma è l'inizio dell'inversione di tendenza. Se i cittadini mettono l'umido nel bidone marrone, se i cittadini mettono il multimateriale nelle campane del multimateriale non a terra, i risultati potrebbero essere ancora migliorabili. Ovviamente noi teniamo la maggior parte dei cittadini, delle scuole, delle associazioni, delle parrocchie che ci dà una mano, c'è uno zoccolo duro che deve essere guardato un po' a vista, infatti i controlli stanno aumentando grazie alla Polizia Ambientale con delle multe salatissime perché questa minoranza rischia di vanificare il lavoro di tanti. La scuola è sempre in prima linea, la scuola è di fatto il presidio del welfare nei tempi moderni, nei tempi contemporanei. Tutti sappiamo il rapporto che esiste tra il calcio e questa città e naturalmente i bambini di questa città possono provare la gioia di andare allo stadio con i propri genitori avendo acquistato loro il biglietto, acquistato con un comportamento virtuoso. È bello comprendere che i comportamenti virtuosi hanno dei concreti vantaggi che sono vantaggi anche immediati e il piacere di accompagnare il proprio padre, il proprio zio, il proprio nonno allo stadio perché con la propria educazione si è conquistato qualcosa. La società Calcio Napoli è stata molto gentile perché di fronte alla richiesta di avere biglietti omaggio per questi bambini naturalmente non si è sottratta. Grazie a tutti.